1, 2, 3, prova, prova, prova. Ciao a Cintia, quella che ha radunato gli archioblogger alla borsa di Pestum un anno fa. L'unione farà forza e questo è ancora più vero nel web, dove il gioco di squadra può essere la vera arma vincente. Ecco dunque a voi la nostra archeosquadra. Ciao a tutti, sono Antonia. Io vi parlerò di Professione Archeologo, il sito più affondato, insieme a Domenica Pate, Paola Romi e Davide Arnisano. Ciao, sono Alessandro del blog Le Parole in Archeologia e di Sveglia Museo. Nel 31 ottobre sono a Pestum insieme a miei amici e colleghi. Ciao a tutti, io sono Francesco. Il prossimo 31 ottobre ci sarò anche io per raccontarvi dell'avventura degli archioblogger italiani allo scorso Day of Archeology e per annunciarvi una novità. La posso dire? Sì, sì, la posso dire. Si tratta di un libro, ma maggiori dettagli li avrete a Pestum. Ciao, sono Giovanna e assieme a Francesco, Elisabetta, Samantha e Nina sono una delle curatrici del blog Archeokids, che è nato da poco assieme ad una pagina Facebook. Ciao, sono Giuliano. Mi diverto a mescolare il passato e il futuro. Ho l'illusione così di capire me di entrambi. Buonasera a tutti. Io sono la Chimera di Arezzo e parlo a voi, comuni mortali, dal mio antro oscuro al Museo Archeologico Nazionale di Firenze per annunciarvi, tra cori di giubilo e canti di gioia, la mia eccezionale partecipazione al Social Media and Archeological Heritage Forum. Ciao, io mi chiamo Mariangela Galatea Vaglio e sono una blogger. Nel mio blog mi occupo di storia antica. Save the date, venerdì 31 ottobre, ore 15, Museo di Pestum. Ci vediamo a Pestum. A voi il mio saluto e che la benedizione del Dio Truscosinia scenda su di voi. A voi il mio saluto e che la benedizione del Dio Truscosinia scenda su di voi.